Questa è una serata che come associazione IABASTE di Besset all'interno dello Sherwood Festival abbiamo fortemente voluto. Abbiamo voluto costruire una serata dedicata ai conflitti e ai muri in tre zone del mondo che sono sempre di più al centro del dibattito internazionale. Infatti questa sera parleremo di Palestina, di Turchia e Siria, Kurdistan e di Messico. In queste tre zone del mondo sono all'ordine del giorno le questioni legate ai confini, alle migrazioni, ai conflitti che si declinano in maniera diversa e anche soprattutto ai muri. Ma non solo questo, sono anche sempre più nel dibattito internazionale le resistenze che vengono portate avanti dalla popolazione dal basso quotidianamente. Qui e in queste tre zone del mondo i conflitti vengono declinati in maniera diversa. Infatti, come vedremo dopo, in Palestina ad esempio parliamo di un conflitto, di una guerra a più riprese. Mentre in Turchia, Siria e Kurdistan è una guerra che è sotto gli occhi di tutti ogni giorno, anche come noi possiamo vedere ad esempio quotidianamente attraverso i media internazionali. Invece in Messico si combatte una guerra diversa, fatta non di bombardamenti, ma una guerra subdola, cosiddetta a bassa intensità. Proprio di questo parleremo questa sera. Conflitti che si declinano in maniera diversa, ma che poi vedono un elemento comune, che è quello della costruzione dei cosiddetti muri della vergogna al confine, all'interno di questi stati. Ma anche un altro elemento comune è quello delle resistenze, della lotta per la libertà e per l'autodeterminazione che ogni giorno combattono quotidianamente dal basso i popoli di questi paesi. Quindi questa sera vedremo tutti questi aspetti. Una prima parte, un primo giro di interventi riguarderà proprio le situazioni di conflitto in questi paesi e una seconda parte di intervento invece si focalizzerà di più sulla costruzione dei muri all'interno di queste tre zone del mondo che prenderemo in esame. Questa sera parleremo innanzitutto di Palestina e lo facciamo insieme al primo dei nostri ospiti, Michele Giorgio, giornalista del quotidiano Il Manifesto e inviato da Gerusalemme ormai da molti anni, proprio quindi dai territori occupati. Con Michele parleremo del conflitto e della guerra che stanno vivendo i territori palestinesi ormai da molti anni. Ormai da decenni in Palestina si vede un'occupazione fatta di checkpoint, fatta di muri, di terre spropriate, di permessi di continui controlli nei confronti della popolazione palestinese. È una guerra che ormai si traduce in tutti questi elementi che sono tipici dei regimi colonialisti e che quindi tipici anche di quello che sono le occupazioni da parte delle grandi potenze mondiali. In Palestina ormai da molti anni si vedono anche dei tentativi di resistenza da parte della popolazione palestinese ed è proprio anche quello di cui parleremo questa sera. Uno degli esempi più importanti per quanto riguarda la Palestina è sicuramente la striscia di Gaza che ha visto negli ultimi anni subire attacchi fortissimi e bombardamenti da parte di Israele, come per esempio nel 2008 l'operazione piombo fuso e nel 2014 l'operazione margine di protezione. Quindi vedremo in che modo il conflitto in Palestina si sta portando avanti anche in questi ultimi tempi. Ci sposteremo poi, rimaneremo comunque in Medio Oriente insieme a Davide Grasso, è un militante notav che l'anno scorso, nella primavera del 2016, è stato in Kurdistan e si è unito alle unità di difesa del popolo kurde per combattere lo stato islamico. Con lui parleremo di quello che sta succedendo attualmente in Siria, in una zona di guerra così feroce. Anche il conflitto in Kurdistan ha delle radici molto profonde perché parliamo di Kurdistan sin dalla fine della prima guerra mondiale, quando sono nati 26 stati in azione, uno di questi doveva essere il Kurdistan. In realtà nel momento in cui è stato scoperto il petrolio nella zona di Kirkuk, con il Trattato di Lausanna nel 1923, sono state spazzate via le speranze di creare uno stato kurdo indipendente. Uno stato che si sarebbe localizzato nella zona dell'Alta Mesopotamia, quindi Siria, Turchia, Iraq. Una zona fertilissima, ricchissima di risorse naturali, ricchissima di risorse minerali e ovviamente anche di petrolio, su cui avevano messo gli occhi gran parte delle potenze mondiali. Si capisce benissimo quindi quali siano gli interessi nei confronti di questa zona e perché sia difficile poter pensare alla creazione di uno stato indipendente kurdo nel momento in cui diventerebbe lo stato più ricco del Medio Oriente e quindi sconvolgerebbe tutte le carte, le sorti geopolitiche del Medio Oriente. Qui Davide, poi ci racconterà anche la sua esperienza, ha partecipato a quella che è una delle resistenze e rivoluzioni più forti, più emblematiche dell'ultimo periodo, ovvero quella che stanno combattendo i combattenti dello GPG, le unità di difesa del popolo, l'unità di difesa delle donne, proprio in Kurdistan contro lo stato islamico. Dopo il conflitto in Kurdistan ci sposteremo in un'altra zona del mondo, in Messico, insieme a Fabrizio Lorusso. Fabrizio è attualmente ricercatore presso l'Università Iberoamericana di Leon ed è anche giornalista freelance. Con lui parleremo di un'altra guerra, molto più subdola, che è quella che si sta svolgendo in Messico. Oramai all'interno del Messico i partiti politici del PRI e del PAN sono due facce della stessa medaglia, stanno attuando una politica di saccheggio dei beni comuni e delle risorse naturali del paese che contribuisce a impoverire la popolazione messicana, questo da un lato. E dall'altro lato sta attuando una vera e propria strategia del terrore che si basa sulle sparizioni forzate e sugli omicidi politici. In tutto questo gioca un ruolo fondamentale anche l'elezione del presidente americano Trump, giocano un ruolo fondamentale gli Stati Uniti che appunto, oltre a con l'elezione di Trump aver rivisto alcuni accordi internazionali, cercano anche di dettare delle linee guida in alcuni paesi che a loro interessano, come ad esempio proprio il Messico che è da sempre il cortile di casa degli Stati Uniti. Tra l'altro il Messico è recentemente anche entrato a far parte del Plan Pentagono che è appunto questo accordo tra Stati Uniti e Messico che vede il Messico collaborare con gli Stati Uniti per un controllo militare e una militarizzazione in tutta la parte dell'America centrale. Quindi anche un ruolo che gioca il Messico insieme agli Stati Uniti molto importante. Quindi questa sera una prima parte dedicata ai conflitti, poi ci sposteremo invece sulla questione dei tre muri che attraversano questi tre paesi.